Siamo con Davide Zara che è il capitano della formazione di seconda divisione della Vomien. Un'esperienza tutta nuova questa per voi? Sì, è un'esperienza nuovissima, è un anno difficile, però siamo riusciti con un po' di costanza, un po' di pazienza a riuscire ad arrivare fino a qua, ad iniziare il campionato, in condizioni non eccellenti, non ottimali, però diciamo che la passione per questo sport è quella che conta. Voi siete un gruppo che ormai gioca pallavolo da tanti anni, che significato ha per voi ripartire da un campionato di seconda divisione? In realtà ripartiamo da un PGS, quest'anno ancora più in basso, per me è la prima volta, diciamo che ho dovuto aspettare i 40 anni e la pandemia e diventare capitano in una squadra di PGS, dicevo che l'ho fatta tutto nella mia carriera, però ripartiamo da una seconda divisione, ripartiamo dal basso, ripeto, sempre per passione, perché il gruppo è bello, ci piace, la società è una società molto presente, e quindi va bene, perché per noi è già soddisfacente questo lavoro. Cosa significa per voi la pallavolo? Siete tutti studenti, laboratori, gente che comunque lo fa chiaramente per hobby, cosa significa? È un gruppo assortito, nel senso che ci sono persone che già lavorano, persone che studiano, è sempre un gruppo con qualche innesto nuovo, però di base siamo da tanti anni che giochiamo assieme e vi divertite ancora. E ci divertiamo ancora, esatto, io sono qui ancora con loro. Davide, grazie, vi seguiremo durante tutta la stagione, buon campionato. Grazie mille.